io sono incazzatissimo perché come potete vedere queste immagini hanno altre due sia youtube che è una merda proprio e sia instagram che fa ancora più cagare praticamente sono tutte e due invasi dai bot questi bot che sono profili sono profili che sono appena creati tipo se tu vai a vedere loro profilo sono membri di youtube da tipo qualche giorno massimo una settimana e spammano questi link che adesso dovrà cliccare leggi tutto ma questa immagine non è uno screenshot quindi non dovrà andare su youtube ma adesso non lo voglia se tu clicchi leggi tutto viene fuori un link se tu clicchi non so se è uno scam o non so comunque sono link di siti sessuali non so manco se esistono e youtube è invasa anche instagram da sta merda qua tutte ste troie di merda che non esistono neanche quando le immagini da internet che spammano sti link del cazzo potete vedere questo è un'altra sempre sul canale riccardo dose che è uno di quelli secondo me dove ci sono più bot e anche su instagram potete vedere il secondo e il terzo commento who can chat with me and what is done sono a vedere sullo profili e sono comunque profili fake credo di bot e non so perché 190 persone 108 persone hanno messo mi like hanno messo dei like a queste persone fasulle se la so che bisogna essere la gente rincoglionita a dare visibilità a questa gente questi questi bot o se proprio i social sono proprio una merda come penso io perché non è possibile che ogni volta che uno va su youtube leggi commenti leggi le risposte è pieno di sti cazzo di bot che spammano link di merda cioè non è possibile cioè fate qualcosa perché sennò siete proprio dei demonizzari inutili che mettono delle applicazioni che non sanno a che gestire no sono un degrado fa cagare sta cosa che è un'altra cosa